Angela Angela portarnos el bienvenido nello sigo di aquí para ti hay una reacción de la buena entonces vamos a ver Angela es una chica muy 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 agresiva ya se ve porque disfruta de armas y aquí necesitamos de algún hijo que venga a hacer entender a la Angela que tiene que jugar porque es una reacción bueno si están todos en base entonces es una reacción diferente creo yo ah mira usé un reaccionador ¿no? ¿cómo se llaman? un disparador de mucha pintura se llama y Angela oh 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 cuidado cuidado estas son las reacciones Angela no Angela perdona y donde vamos a ver los nuevos participantes del canal nada vamos a ver cómo se mueven cómo juegan a comprender tecnicas nuevas y por qué no a disfrutar de lo que es entonces en este partido tenemos momento mango, victo, Angela con la bolla, la bolla t le bolle de sapone no no nunca se tiene que dormir cuando hay un japonés en la partida claro Dalla regia Diciamo che si chiama Tintragliadora Dalla regia Diciamo questo Perfetto Ma chi? Abbiamo un cico depistato Che si trova proprio L'inchiostro Ma no No, no, no Nostro amico Giappones Non chiede tonteria E il sabolo che è Una reaction Con i fiocchi E dispara Dispara Angela Dale, dale Dispara donde puede Questa è Un sacco di merda Guarda, guarda Sì, sì Guazza Grande Lettura del movimento Del player DS Buonissima Gia Abbiamo visto La mossa che gli va Da ser Vise Arriva E' vitto Che tenta di essere Playboy Ma Angela Gia tiene novio E non chiede Scucciare tonteria E va Boom E' il perrito Cybermeccanico Io lo odio E' una cosa E' una cosa Proprio Ma Sporta Che io Porreste lo tengo Come arma Perché lo odio Non è possibile Che ha Se un'arma Come questa E va La nostra La nostra Amica Angela Ultimo Sì Secondo Sì Sì Perché lo Secondo Vanno A tra No Non si Che Stavo Comprendo Entra Se si Dove La prima Reaction Non reaction Squid Party Metabolistica Sì Entra No 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 Non mi do Muy bien Logicamente Perché si Vasa Come La Pintura Come Ho Giocato Mi Gocteria Verla Co Garbiene Perché Creo Che Tiene Buena 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 Potenzialità Però Dei Gustavo